Guarda qua, abbiamo messo le cozze, stasera facciamo spaghetti con le cozze, guardate che bellezza, abbiamo messo spicchio d'aglio, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta, adesso l'abbiamo sfumato con un po' di vino bianco, stiamo facendo evaporare un pochettino l'alcol del vino e ci vediamo per la prova dell'assaggio, mi chiedo, spaghetti con le cozze, a dopo! Attenzione, adesso siamo pronti, siamo pronti, la pasta è stata colata, adesso andiamo ad aggiungere tutto il nostro cozze, le nostre cozze, e andiamo, un goccio di olio extravergine d'oliva, e andiamo! Ah no? Sì, vai vai, mette, mette tutto qua, perfettamente, ok, basta così, basta così, basta così, no, basta così, bene, la facciamo andare a cuocere qui dentro, aggiungiamo, dai un coppenello, adesso prendiamo, ok, metti un, abbiamo la sostente qua, stiamo coppinata, perfetto, ancora, 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 il chef, ancora, un altro coppenello, un altro coppenello, ok, bene così, Adesso la facciamo, ma ce la metto tutta questa qua, va a sbagliare la farina, come si dice, sbarra, via, a canna rotta, via, abbiamo assaggiato un vino che è una strofa com'è, la roba è una strofa, ragazzi, adesso rimaniamo, il fuoco deve essere accetto, e andiamo, guardate che bellezza, figlia, buona mena, mette il brodo, mette il brodo, questo è il brodo della cottura della pasta, vai, 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 che tutta cosa peccata, vai, ragazzi, guardate che bellezza, ragazzi, guardate che bellezza, adesso la facciamo un po' cuocere, e stiamo pronti, metteci un po' di prezzemolo fresco, mette, vai, 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 il prezzemolo tagliato a mano, perché non si tocca col cuocere, guardate che ciavolo che fa questo prezzemolo, questo è il prezzemolo, questo è il prezzemolo, questo è il prezzemolo, vai, 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 ricca, no, 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 prezzemolo basta così, perfetto, ok, va bene così, ragazzi, ok, adesso la facciamo, che c'è, un po' di brodo? no, basta, bellissima, guardate che bellezza, ok, ragazzi, ci vediamo per la prova dell'assaggio, ciao, 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 facciamo intanto, cominciamo la prova dell'assaggio, io repino la forchetta, la alzo, la metto comunque, è una cosa internazionale, internazionale, veramente, adesso facciamo la prova, è una cosa internazionale, classica, stasera siamo a casa, mi ha pugnato un macchino, non si va via, attenzione, com'è, com'è, fa spaghetti, questo spaghetti, spaghetti con le congo, con le cozze, 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 mazzarite, com'è, com'è, una roba internazionale, ora vedevo, prima l'assaggio, cavolo, dai, questo amico e sembrano a prendere, prima dello avevo ottimo iございますi, sono andati video, in questa situazione, con la cuca, guadgiano, guadgiano, guadgiano o la buca,然後 darmo Kingsidi con la cuca. alla salute buona serata a tutti come ti vivi? a canna rotta vai a canna rotta vai via ciao a tutti